Paganini era in grado di eseguire imprecati fraseggi con arpeggio e ritornelli che altri violinisti non osavano affrontare, toccando in rapida successione molte più note alte e basse del normale. Fino a mille note al minuto, Taluni dichiarano. Grazie Anna e naturalmente va da sé, non potevamo non ascoltare, Paganini, capriccio numero 24, esegue Marco Misciagna. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.